la potente figurazione del cocito concentrata in appena due canti e mezzo resta impressa nella mente del lettore per le peculiarità che distinguono questa dalle precedenti zone dell'inferno il ghiaccio come nelle petrose vi si fa proiezione concreta di una sprezza fisica morale psicologica comportamentale nonché di conseguenza stilistica e linguistica che non ha uguali nella prima cantica e dante stesso segnala lo stacco dotando questa sezione di un proprio proemio all'inizio del canto trentaduesimo comprendente anche una nuova invocazione alle muse prima ancora di rendersi conto della natura del luogo il poeta ode una voce che lo avverte di guardare dove mette i piedi per non calpestare i dannati che vi si trovano solo allora si rende conto di trovarsi ai bordi di un grande lago gelato dal quale vede emergere come rame che tengono il muso fuori dell'acqua i libidi volti dei traditori che battono i denti per il freddo dalle parole dell'anonimo dannato da quelle di dante che parlerà di mille visi cagnazzi e da quanto accade nel seguito del canto trentadue si deduce che quelle teste sono moltissime e sono tanto fitte vicine tra loro che dante deve stare attento a non urtarle mentre cammina sassolo mascheroni impedisce col capo la vista a camicione dei pazzi e dante per quanta attenzione faccia colpisce con un calcio bocca degli abati suscitando le sue vivaci proteste nell'amirabile varietas che presiede la costruzione dantesca dell'oltretomba i dannati del cocito si contrappongono specularmente ai simoniaci quelli conficcati nei fori che costellano il pavimento di pietra della terza volgia emergono solo con piedi e gambe ma al sopraggiungere i nuovi peccatori sprofondano completamente nella roccia questi nelle prime tre zone emergono dalle loro buche soltanto con la testa o il volto e nella quarta sono interamente sommersi nel ghiaccio tranne gli ultimi tre con la testa e traditori peccarono usando ragione e parola per ingannare chi si fidava di loro e la testa con tutte le sue parti è ora oggetto e strumento di pena crani presi a calci divorati o intenti a darsi di cozzo con violenza volti lividi bluastri e deformi capelli orrendamente impigliati strappati o usati a mod di tovagliolo come scrisse de santis occhi perennemente lacrimanti e nella tolomea coperti da una crosta di ghiaccio che impedendo alle lacrime di sgorgare accresce il dolore orecchi caduti per la freddura denti che battono per il freddo emettendo un rumore secco che costituisce la sinistra ossessiva colonna sonora del cocito denti che azzannano e frantumano crani altrui come quelli di un cane bocche dalle quali escono solo parole di odio rancore rabbia e vendetta oppure parole beffarde e sarcastiche che si rimbalzano scherni accuse e bocca è anche il nome del dannato dell'antenora che è protagonista della seconda parte del canto 32esimo fino a giungere al fondo dove la scena sarà occupata dalle tre mostruose teste e bocche di lucifero ognuna delle quali maciulla e scortica coi denti un peccatore tutto ciò in armonia con l'investiamento caratteristico di questi dannati e poi animalizzato dai visi cagnazzi ai denti di cane dalle teste paragonate come quelle dei barattieri immersi nella pece a musi di rane ai denti che battono rumorosamente in nota di cicogna dalle teste che cozzano insieme come quelle di due vecchi ai traditori paragonati a pezzi di carne in gelatina con immagine culinaria analoga a quella con cui nel canto 21esimo i barattieri tenuti nella pece dai diavoli erano equiparati alla carne che gli aiuto cuochi attuffano nella pentola affinché cuocia e non venga a gallo anche la storia seconda di ugolino è dominata da un immaginario di questo tipo si pensi ai denti aguzzi delle cagne che nel sogno del conte ruggeri scatena in caccia contro lui e i suoi figli o ai denti dello stesso conte che in prigione per ira e per disperazione morde se stesso come facevano filippo argenti e il minotau segno della ferinità attribuita ai traditori e al cerchio che li ospita e poi in generale l'insistenza sul tema della fame del cibo e del mangiare evocato con accenti animaleschi e nel racconto di ugolino persino autofagici e cannibalici oltre che con termini fortemente espressivi e immagini crude e realistiche anche dante subisce gli effetti dell'uomo trema a causa del gran freddo il volto gli diviene insensibile come se si fosse ricoperto di un callo ma non tanto da non avvertire il vento prodotto dalle ali di lucifero e teme che la sua lingua possa congelarsi e seccarsi così intenderei l'ultimo verso del canto 32 che mi pare insufficientemente spiegato da quasi tutti i commentatori perché infatti concluso il patto con un golino dante si impegna a riparò a riferire le parole del conte purché la lingua con cui parla non si secchi la precisazione sembrerebbe ovvia e gratuita in questo contesto se la intendessimo come se significasse purché io non muoia o se non mi viene meno la facoltà di parlare mentre altre interpretazioni se la fama del mio poema non si estinguerà se l'orribile storia che ascolterò non mi lascerà senza parole oppure finché la lingua in cui scrivo non uscirà dall'uso non sono autorizzate dalla lettera ben più coerente con il contesto appare invece il verso se come intuito raca ripreso ora da frasso e da altri le parole dantesche vengono collegate al freddo e ai suoi effetti sull'organismo più volte qui sottolineate a carico dei dannati dalle orecchie cadute di sassolo mascheroni ai visi cagnazzi e dello stesso poeta che trema nell'eterno rezzo dante insomma manifesta qui il concreto timore che il gelo del cocito possa seccarli e paralizzarli la lingua e che dunque egli tornato tra i vivi non possa dettare il suo poema più che il versetto dei salmi da tutti ricordato ad erat lingua mea faocibus meis si nome minero tui è pertinente il meno comune rinvio alle legia terzo tri dei tristia dove ovidio malato e sofferente a causa del luogo e del clima e per questo impossibilitato a scrivere e obbligato a dettare i suoi versi afferma che la lingua attaccata al palato gli viene meno e chiude anzitempo perché la vox fessaloquendo e la sicca lingua lo privano delle dictandi vires sarà forse anche per questo che la sosta dei due pellegrini nel cocito è breve diversamente da quanto accadeva nelle zone precedenti dell'inferno dante non può sottrarsi al clima estremo del nono cerchio e gelo e vento lo affliggono al pari dei dannati dei quali è costretto a condividere almeno parte del supplizio parallelamente specularmente il cima al purgatorio la ligheri dovrà attraversare il fuoco ardentissimo dei lussuriosi tanto che da allora egli osserva gli è venuto riprezzo e sempre gli verrà degelati guazzi dopo l'incontro scontro con bocca degli abati dante è attirato da un'insolita visione quella di due dannati in una buca uno dei quali sovrasta con la sua testa la testa dell'altro questo significa il verso 126 del canto 32 sì che l'un capo all'altro era cappello ciò suggerisce tre considerazioni primo i precedenti traditori presentati in coppia i fratelli alberti sassolo mascheroni e camison de pazzi erano semplicemente tra loro vicini ma comunque separati all'interno della ghiaccia in due diverse buche secondo il modo il grado della pena di ruggeri e ugolino sono diversi da quelli di ogni altro traditore perché l'uno subisce dall'altro e cioè dal fatto di scontare insieme all'altro la pena un tormento supplementare come accade nei casi analoghi di paolo e francesca e di ulisse e di omelio terzo come già in quei casi è proprio questa particolarità che distinguendo i due dannati da tutti gli altri suscita l'attenzione di dante facendogli supporre a ragione che essa discenda da singolari e straordinarie vicende di cui essi furono protagonisti in vita e in morte oltre che dalla superiore gravità della loro colpa ma la singolarità è anche fisica paolo e francesca insieme vanno e sembrano più leggeri degli altri lussuriosi ulisse e di omede sono racchiusi in una fiamma biforcuta e nel caso di ruggeri ugolino il secondo non può evidentemente essere immerso nella ghiaccia fino al collo ma per poter divorare il cranio dell'arcivescovo deve fuoriuscirne con parte del busto e con le braccia così in effetti ugolino è raffigurato nelle minature di numerosi codici questo è primo primo della quercia manoscritto james thompson 36 della british library di metà 400 dove vedete vero in basso a a destra ugolino che addenta zanna il cranio di ruggeri tenendolo fermo ecco nel braccio sinistro e anche per venire a tempi più recenti nella relativa incisione che è questa di gustavo d'orecchio solo in tal modo il conte potrebbe far cappello come vedete a ruggeri ed essere definito rispetto a lui sovran verso 1628 e le braccia libere servono a ugolino anche per tener fermo il capo di ruggeri che altrimenti si muoverebbe per sottrarsi ai denti del suo avversario proprio come nell'ottavo libro della tebaide tideo afferra con la mano sinistra il cranio di melanie il vantaggio di ugolino per riprendere un termine che sarà usato in senso amaramente ironico da frate alberico si traduce come per ragioni diverse nel caso dell'abbraccio infernale di paolo e francesca in un accrescimento di pena giacché l'iterazione perpetua dell'atto cannibalico rinnova in lui per l'eternità il tormento dell'odio che lo divorò in vita e il ricordo delle sue tragiche conseguenze abbattutesi anche sui suoi figli e nipoti innocenti la scena nella sua grottesca tragicità viene a configurarsi come una sorta di prefigurazione in scala ridotta di quella che a breve apparirà ai due pellegrini nella giudecca ugolino è un piccolo lucifero come lui è conficcato nel ghiaccio fino al busto uscendone da mezzo il petto come lui è un traditore che diventa punitore carnefice di un altro traditore maciullando nella testa con le proprie fauci e ruggeri è un piccolo giuda perché entrambi hanno sulla coscienza la morte di vittime innocenti introducendo il fiero pasto di ugolino negli ultimi sedici versi del trentaduesimo canto e rinviando al successivo la presentazione dei due personaggi e la risposta del conte alla sua domanda dante crea un forte effetto drammatico di sospensione e di attesa nonché un sentimento di orrore rafforzato poi dall'immagine di ugolino che prima di parlare solleva la testa nettandosi barbaramente la bocca con i capelli di ruggeri l'effetto deriva da un'imitazione strutturale della tebaide dove analogamente l'ottavo libro si chiude su tideo che addenta il cranio di melanippo sporcandosi la bocca di sangue materia cerebrale e il nono si apre descrivendo lo sdegno e i propositi di vendetta dei tebani per questa brutale profanazione con la quale tideo ha oltrepassato i limiti dell'odio analoga spezzatura dante aveva già introdotto fra i canti 16 e 17 per l'apparizione di gerione e soprattutto 24 e 25 concludendo il ventiquattresimo con la profezia di van di fucci e aprendo il venticinquesimo col gesto blasfemo del ladro e con la sua metamorfosi qui segue come accade nel trentatresimo dopo la fine del racconto di ugolino l'invettiva contro la sua città pistoia in quel caso di cui il poeta auspica l'incenerimento commossa di carattere biblico profetico non diversa da quella che caratterizza le invettive antipisane e antigenovesi posti a suggello delle tue due sezioni del trentatresimo ai pistoia pistoia ai pisa vituperio delle genti eccetera ai genovesi uomini diversi d'ogni costume eccetera ne va trascurato alla fine dell'episodio di van di fucci l'accenno a tebe laddove dante dichiara il ladro pistoiese più superbo persino di capaneo che anticipa le numerose menzioni e allusioni alla città greca simbolo degli odi degli orrori e delle violenze intestine più atroci disseminate nei canti trentaduesimo e trentatresimo fin da che da questo accorgimento è palese che l'episodio di ugolino si iscriva nelle categorie stilistico psicologiche dell'orrore e del pathos sotto il segno della saga tebana e del suo massimo cantore latino stazio l'orrore è il connotato oggettivo della scena così come scaturisce dalle descrizioni dantesche di ruggeri del conte e del suo pasto definito segno bestiale del suo odio il patetismo e la cifra soggettiva impressa da ugolino al racconto nell'intento di sviare l'attenzione di dante dalla propria colpa dirigendola invece verso la disumana crudeltà usata dal suo avversario nei confronti dei figli e quindi verso la propria figura di padre straziato dal più grande dei dolori ugolino mira a guadagnare la solidarietà del poeta puntando abilmente come aveva fatto francesca su sentimenti che gli immagina da lui condivisi e che dunque possano stabilire una sintonia reciproca la era stato l'amore o meglio la predisposizione all'amore tipica dei cuori gentili o animal grazioso e benigno cai pietà del nostro mal perverso qui è l'odio che nel cuore di un fiorentino del dugento secondo il conte deve necessariamente albergare nei confronti dei pisani francesca aveva intuito questa corrispondenza di sensi fondandosi sull'affettuoso grido dantesco o anime affannate ugolino la presuppone sulla base della fiorentinità del suo interlocutore desunta non solo dalla loquela cioè dalla parlata ma probabilmente anche dal duro scontro verbale e fisico del poeta con bocca degli abati che gli ha rivelato il pieno coinvolgimento di dante nelle lotte di parte e il suo guelfismo e la promessa del poeta di accrescere sulla terra l'infamia di ruggeri deve aver rafforzato nel conte la persuasione di trovarsi di fronte all'uomo giusto per lui ci voleva dante insomma un vivo un fiorentino un uomo di parte un guelfo per indurre ugolino a interrompere la sua perpetua vendetta sotto questo aspetto non è in proprio il confronto con farinata che allo stesso modo non si cura dell'identità umana di chi ha di fronte preoccupandosi solo di conoscerne il casato sia l'appartenenza e di fare l'apologia della propria parte e della propria azione politica ma se con il grande ghibellino si sviluppava un lungo dialogo da prima aspro e poi più disteso e conciliante il conte resta invece chiuso nel proprio auto referenziale monologo ciò che vuole non è dialogare con dante ma suscitare in lui pietà compassione e sdegno non docere e provare ma muovere e flectere combinando sapientemente allusioni classiche e scritturali e ricorrendo a tutte le risorse del pathos enumerate da macrobio nel quarto dei saturnalia probabilmente però ignoto a dante e da cicerone nel de invenzione laddove si tratta dell'indignazio e della conquestio che sono rispettivamente il discorso con cui si genera in chi ascolta odio verso l'autore di un misfatto o avversione per un atto commesso indignazio e il discorso col quale si cerca di ottenere la pietà dell'uditorio invitandolo alla compassione la conquesta ugolino dunque come ha scritto osip mandeshton esegue da virtuoso la propria disgrazia e mentre parla spia di sotto in su le reazioni dell'ascoltatore stupendosi della sua impassibilità ben se crudel se tu già non ti duoli e subito dopo e se non piangi di che piange suoli dal canto suo il poeta giunto quasi al termine del viaggio infernale ha imparato a controllarsi se nella bolgia degli indovini aveva pianto guadagnandosi il duro rimprovero di virgilio e se di fronte alle terribili pene dei seminatori di discordia aveva astento trattenuto le lacrime qui nello spettacolo orrifico del fiero pasto nella narrazione patetica del conte provocano in lui alcuna reazione emotiva fatta salva si intende l'invettiva finale contro pisa nella tebaide persino gli dèi prima atena poi marte distolgono indignati lo sguardo da tideo che divora il cranio di melanin dante descrive la scena con fredda oggettività alle parole del conte poi nessun moto nessun commento come dopo l'altro grande monologo dell'inferno quello di ulisse scatta sia alla fine lo dicevo adesso la violenta invettiva maledizione contro pisa ma si tratta di un effetto collaterale in parte diverso da quello voluto e previsto da ugolino dante non si scaglia contro ruggieri e gli altri nemici del conte ne parla difesa di quest'ultimo o tantomeno manifesta pietà per lui esprime invece indignazione per la crudeltà dei pisani che violando ogni diritto civile ogni legge umana e divina estendono la giusta punizione capitale di un traditore ai suoi figli innocenti di minore età inoltre va aggiunto che l'invettiva non è pronunciata da dante personaggio dopo aver ascoltato la narrazione di ugolino ma è un'inserzione di dante poeta a margine dell'episodio diversamente ad esempio dall'esclamazione contro l'orgoglio e la dismisura generate in firenze dalla gente nuova e dai subiti guadagni in cui dante prorompe durante il suo colloquio con jacopo rusticucci nel terzo girone del settimo ciclo e tale invettiva completa il novelo delle accuse mosse a più riprese soprattutto nel basso inferno alle città toscane dopo quelle contro firenze lucca pistoia e siena un desolante quadro che verrà ricapitolato da guido del duca nel quattordicesimo del purgatore dove la toscana è dipinta come il luogo in cui vertù per nemica si fuga da tutti come biscia e dove seguendo il corso dell'arno si passano in rassegna paragonandoli ad altrettanti animali immondi voraci o astuti il casentino arezzo fidenze e pisa città quest'ultima abitata da volpi si piene di froda che non temono ingegno che le occupi nelle parole di guido la severa condanna comunerà toscana e romagna e anche il cocito accanto a una netta maggioranza di toscani fiorentini pistoiesi come il focaccia i fratelli alberti conti di vernio e di mangona ospita due romagnoli entrambi faentini tebaldello zambrasi nell'antenora e il frate gaudente alberigo manfredi detto da dante il peggiore spirito di romagna nella tolomene personaggi come ha mostrato umberto carpi legati da vincoli parentali e politici con alcuni dei romagnoli de genevi menzionati dallo stesso guido del duca voglio dire che la vicenda di ugolino fornisce a dante l'occasione di un'invettiva antipisana che non poteva mancare nell'inferno tanto che per scagliarla egli non esita a forzare i dati reali definendo figli anche coloro che erano in realtà nipoti del conte anselmo e nino detto il brigata l'uso estensivo del termine figli è però documentato e soprattutto attribuendo loro un'età novella che tale era per il solo anselmo è ben noto poi che uno dei quattro sia il brigata non era certo un innocente visto che pienamente coinvolto nella spregiuricata e faziosa politica di ugolino nel 1287 aveva ucciso gano di marzucco scornigiani partigiano dei disconti poi come già notava l'ottimo le leggi civili estendevano la colpa del traditore anche ai discendenti compresi quelli non ancora nati al momento della condanna e comunque punendoli nei beni e non nella vita ma solo a partire dalla loro maggiore età ossia dai 14 anni escludendo i minorenni in quanto doli incapaces e però scrive l'ottimo commento dice l'autore che la tenera età della quale egli erano li scusava da dolo e da tale peccato per lo quale dovessero morire ruggeri e suoi in effetti risparmiarono il piccolissimo guelfuccio pronipote di ugolino allora appena lattante ora è difficile che dante ignorasse questo come altri dettagli perché la storia era nota e recente e perché poteva essergli stata riferita nei particolari da persone ben informate dei fatti che egli ebbe modo di frequentare in particolare nino visconti e gherardesca figlia di ugolino e moglie del conte guido guidi di battifolle per la quale gli iscrissi a poppi nel 1311 tre epistole indirizzate a margherita di brabante sposa di arrivo sempre pare dunque certo che abbia voluto alterare intenzionalmente strumentalmente il dato dell'età dei figli del conte sulla quale ugolino non si sofferma tranne forse che nel caso di anselmo da lui in quanto ragazzo chiamato anselmo allo scopo di dare maggior forza al proprio sdegno e di potersi più duramente scagliare contro pisa per la sua crudeltà additandola come la vergogna e l'infamia delle città d'italia la questione a rilevanza anche a un livello più generale dante non fa sconti a ugolino lo dicevo poco fa il resta sordo alla sua mozione degli affetti il sottinteso dell'episodio è che a ruoli invertiti egli non avrebbe esitato a fare quel che ruggeri e gli altri suoi avversari hanno fatto a lui e ai suoi figli e nipoti perché anche lui come i suoi nemici era un traditore della patria un uomo violento senza scrupoli senza fede e senza dio disposto a servirsi del tradimento politico come arma per far valere e difendere ad ogni costo i propri interessi personali non di meno la figura e l'orazione del conte si stagliano nel degradato contesto del nono cerchio il personaggio grazie soprattutto all'insistenza sulla sua sventura di padre si distingue con forza dagli altri dannati del cocito ben altrimenti meschini e del tutto privi della sua fosca tragica grandezza che rinnova l'innegabile ambiguità o meglio bivalenza dell'atteggiamento dantesco nei confronti di altre figure forti della prima cantica quali francesca farinata pie della vigna brunetto e ulisse a ciò contribuiscono anche altri accorgimenti sorvolare sui fatti che determinarono la disgrazia all'imprisionamento del conte e dunque in sostanza sulla sua colpa per concentrarsi esclusivamente come nel caso di ulisse e anche in quello di buon conte da montefeltro sulle circostanze sul modo della morte definire una voce l'accusa di aver ceduto confini fraudolenti alcuni castelli di pisa alle guelfe lucca e firenze senza nevare al tradimento ai danni del nipote nino visconti grande amico di dante da lui omaggiato nell'ottavo del purgatorio insistere sulla fiducia da lui riposta in ruggeri e sul tradimento che costui consumò nei suoi confronti che il lettore è indotto a ritenere più grave di quello imputato al conte anche perché come ugolino non manca di sottolineare ruggeri era un arcivescovo ossia un uomo di chiesa e dante anche per questo lo fa oggetto di un'ulteriore pena e di uno specifico contrapasso a persona d'altronde era noto che per la sua crudeltà il papa nel 1295 lo aveva privato della sua carica e condannato al carcere a vita infine l'appena ricordata attribuzione della minorità ai figli e ai nipoti di ugolino che accresce l'abiezione e la ferocia dei suoi avversari nonché dell'intera città di pisa a tutto ciò aggiungerei anche il rifiuto di dar corso alla diceria del cannibalismo tecnofagico che circolava esplicitamente a firenze come provano un'anonima cronaca di fine 200 e qui vi si legge alla fine del brano si trovò che l'uno mangiò delle carni dell'altro e le parimenti anonime glosse all'inferno del codice laurenziano gardiano 90 inferiore 42 volgarizzamento trecentesco rimaneggiato del commento di graziolo dei bambaglioli il quale non aveva commentato è il verso ammigerato verso 75 anche qui alla fine si legge è però li mangiò per fame diceria del cannibalismo tecnofagico che dante esclude a mio avviso proprio con quel verso 75 in cui ha invece voluto riconoscerla un esegesi non rispettosa della lettera oltre che indebitamente suggestionata dall'accanimento del conte sul cranio di ruggeri e dalle parole rivolte a ugolino dai suoi figli ai versi 61 63 padre assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi eccetera ma anche da un passo della della definizione di tragedia che si legge nelle derivazioni di uguccione e tragedia est enim le frutte vissimi srebus sicur qui patrim et matrim interpicit ver comed et filium ver e converso et ui usboli definizione che viene ripresa e compendiata ma con omissione proprio di questo passo anche nell'epistola a can grande definizione che tuttavia come evidente non può essere assunta prova della tecnofagia di ugolino così come molto incerto che dante conoscesse nonostante che ad essere invii nel citato luogo della lettera a can grande le tragedie di seneca e in modo particolare il tieste giacché le presunte reminiscenze di questa tragedia che sono state individuate nel discorso del conte possono essere anche e meglio ricondotte ad altre fonti soprattutto alle mele analogamente altri ipotetici ipotetici luoghi paralleli sarebbero tali solo una volta dimostrata la fondatezza dell'interpretazione tecnofagica e non possono valere a provarli come la storia riferita da giuseppe flavio e ricordata da dante nel ventitresimo del purgatorio di quella maria che impreda la fame durante l'assedio romano di gerusalemme nel figlio di eddi becco o alcuni passi biblici ad esempio libro di geremia che evocano in forma di maledizione di profezia immagini di genitori che divorano le carni dei figli o delle figli oppure la duecentesca chanson di amico e amelio tirata in ballo a suo tempo da contino vorrà pur dire qualcosa piuttosto che tra i primi commentatori solo in lana accenni alla tecnofagia di ugolino qui mostra che poi che furono morti il digiuno vinse il dolere che li mangiò da alcuni di quelli in film in film ripur di fame eccetera dei commentatori successivi il maramauro la riferisce come interpretazione di alcuni senza farla propria mentre nel quindicesimo secolo cristoforo landino si scaglia duramente contro il nido beato che seguendo ad verbum in lana aveva ripreso la sua tesi non vi allude giovanni villà e neppure geoffrey schosser quando nel max tale include la storia di ugolino rimaneggiando i versi del trentatresimo dell'inferno e citando dante esplicitamente tra le vicende tragiche che narra nella novella volendo spingersi ancora oltre potremmo forse aggiungere che se tutto il discorso di ugolino si concentra su ciò che né dante né alcun altro poteva avere inteso cioè come la morte sua fu cruda ciò serve al conte anche per smentire col verso che mette fine all'orazione le infamanti voci sul suo cannibalismo così come pierde la vigna difende il suo onore di segretario fedele e unisse il suo disinteressato amore di conoscenza o in contesto diverso e con intenti ovviamente diversi manfredi e buon conte che tutti sulla terra ritengono dannati riferiscono del proprio pentimento in extremis lo scopo è sempre quello di ripristinare una verità vera o presunta rimasta ignota ai vivi perché occultata da false opinioni o deturpata da calugne e maldicenze anche chi non condivida in toto la tesi di carpi e sant'agata di un inferno guelfo non può non restare colpito da quanto accade nei canti del cocito dove dante prima si comporta con inusitata e vendicativa violenza nei confronti del traditore di montaperti poi prende spunto dalla vicenda di ugolino nell'isposizione della quale il giudizio più duro colpisce il suo antagonista ruggeri per lanciare una terribile maledizione contro la ghibellina pisa manfredi porena scrisse che qui dante si rivela ancora pienamente uomo di parte trascinato dall'animo comune del tempo parole sue nel groviglio di interessi di passioni e di sentimenti che si connettevano alle lotte di partita fatta la tara della costernazione della meraviglia un po ingenua con cui porena constatava come tali sentimenti non risparmiassero talora neppure un uomo superiore parole sue quale era dante l'osservazione difficilmente contestabile e acquista un sovrappiù di storica e politica concretezza se col carpi rileviamo il contesto casentinese romagnolo e lunigiano che sembra far da sfondo a questi canti nei quali non per nulla a quella antipisana si affianca l'altrettanto dura invettiva antigenovese posta a suggello del trentatreesimo e decisamente sproporzionata rispetto all'occasione che la determina il tradimento di brancadoria ai danni del suocero michele zanche la cui evocazione rimanda inoltre alle questioni sarde che tanto peso ebbero nelle vicende pisane di quegli anni comprese quelle di ugolino due invettive osserva ancora carpi di per sé irrelate e abbastanza gratuitamente declamatorie ma che colpiscono due città nemiche del guelfo nero moroello malaspina ed è presumibile che l'orazione di ugolino dalla quale chi ne esce peggio è il chibellinismo pisano avrà probabilmente incontrato oltre a quella dello stesso moroello con cui ugolino era imparentato anche l'approvazione della fila del conte e del marito di lei guido da battifoglio pisa d'altronde in quella costellazione politica negli anni in cui l'inferno fu composto era un polo negativo come lo era perdante guelfo legato al guelfo nino visconti cliente dei malaspina e recente ospite della guelfa antipisana lucca che nel 1275 aveva accolto anche il ribelle ugolino e i suoi figli l'eccezionale rilievo dell'episodio di ugolino ha un po messo in ombra nella letteratura critica la seconda parte del canto dedicata alla terza zona del cocito la tolomea con la quale dopo la vetta tragico horroroso patetica dell'incontro con il conte si ridiscende verso i toni aspri grotteschi e stilisticamente comici del canto precedente i canti 32 e 33 presentano così una struttura tripartita a b a a climax e anticlimax con il pannello centrale occupato interamente dalla figura dal discorso di ugolino e caratterizzato dall'eccezionale ampiezza di 106 versi che si innalza e si isola come una sorta di parentesi nella descrizione poeticamente compiuta e sapientemente strutturata dei primi tre settori del cerchio nono e se anche la seconda parte del canto 33esimo come la prima a un solo protagonista frate alberigo con essa non di meno si ritorna all'andamento mosso e frastagliato del 32esimo in virtù del dialogo fra dante alberigo e della presentazione che quest'ultimo fa di un altro traditore a lui vicino brancadoria servendosi degli stessi toni malevoli e risentiti con cui nel canto precedente camicione pazzi e bocca degli abatti avevano mostrato al poeta alcuni dannati della caina e dell'antenone se per convincere bocca a parlare dante prima aveva provato a lusingarlo in modo subdolo quale fama avrebbe infatti potuto garantire coi propri versi a un traditore come lui e poi lo aveva afferrato per i capelli con violenza maltrattandolo anche verbalmente e secco lugolino aveva fatto leva sul suo odio promettendogli di rinverdire presso i vivi l'infamia del suo nemico ora inganna crudelmente frate alberigo per indurlo a rivelare la sua identità promettendogli un conforto liberargli cioè gli occhi dalla visiera di lacrime congelate che poi ottenute da lui le informazioni che desidera gli negherà l'inganno è già nel patto che dante giocando sul fatto che alberigo non vede e quindi non si è accorto della sua condizione di vivo e lo crede un compagno di pena appena giunto nel cogito stabilisce con lui se non mantengo la promessa che io sia costretto ad arrivare al fondo della ghiaccia cosa ovvia da fare per dante pellegrino ma alberigo intende certo diversamente cioè che io sia dannato alla pena peggiore di tutti quella della giudecca questi dannati del resto non vogliono parlare e devono essere costretti a farlo o con la forza o con la frode a sua volta dante non si fida e quando ode alberigo illustrargli il vantaggio della tolomea nella quale i traditori degli ospiti cadono prima della morte cosicché i loro corpi sono governati sulla terra da un demonio secondo un'invenzione autorizzata da vari passi biblici in particolare dal salmo 54 e da quanto di giuda si dice nel vangelo di giovanni quando dante punto ode alberigo spiegargli in cosa consiste questo vantaggio della tolomea lo accusa di volerlo ingannare da parte sua alberigo non fa niente per guadagnarsi la simpatia del poeta e dei lettori parlando di sé e degli altri come già avevano fatto sassolo e bocca con accenti sarcastici e sprezzanti che si avvalgono del continuo ricorso all'antifrasi il vantaggio ossia il terribile privilegio della tolomea il dattero per figo cioè il frutto ancora più dolce che li riceve ora come premio del suo dolce comportamento e in cambio della frutta del malorto con cui diede ai sicari il segnale per l'assassinio a tradimento dei suoi ospiti infine brancadoria che gli verna dietro che cioè trascorre dietro di lui l'inverno del cocito cui però non farà mai seguito la primavera se nelle malevolge la pietà viveva solo quando era ben morta perché la vera pietà consisteva nel non provare pietà verso i dannati riservandola esclusivamente alle loro vittime ora di fronte a una colpa ancora peggiore come quella dei traditori è raccomandabile o almeno giustificabile persino la villania che anzi diventa paradossalmente la sola possibile cortesia la sola forma di rispetto cioè per i traditi e per il giudizio divino non di meno il comportamento di dante sconcerta per aggressività violenza verbale e fisica e astuzia fraudolenta anche perché gli fanno da contraltare la passività e il silenzio pressoché totale di virgilio che non profferisce parola per ben 255 versi dal verso 134 del canto 32esimo al verso 106 del 33esimo e che niente obietta neppure quando dante udendo nominare montaperti da un dannato cui ha inavvertitamente colpito il volto con i piedi gli ingiunge con decisione di aspettarlo finché non si sarà chiarito un dubbio senza chiedergli e senza attendere licenza e senza che il maestro gli ricordi come fa spesso l'obbligo della fretta scartando senza rimpianti le immancabili interpretazioni metapoetiche diremmo che qui dante non ha bisogno di virgilio perché ormai raggiunto la consapevolezza e la fermezza necessarie a non farsi condizionare dalla pietà e dall'orrore e perché sa bene come interloquire con uomini che in vita furono animati da odi familiari o politici passioni a lui ben note sprigionatisi in contesti cittadini e comunali quando parla con loro infatti la ligiere si cala perfettamente nella situazione anche sul piano dello stile e del linguaggio a volte adottando il botta e risposta beffardo e tagliente già praticato con filippo argenti e sperimentato assistendo alla rissa tra sinone maestro adamo altre volte lusingando i traditori col chiamare in causa i loro sentimenti più bassi nel caso di un golino altre ancora promettendo falsamente in quello di frate alberico e dante non ha qui bisogno di virgilio anche perché già in precedenza ha potuto ripetutamente constatare sotto le mura della città di dite o nelle bolge dei barattieri e degli ipocriti la sua insufficienza il suo impaccio insomma la sua mancanza di strumenti di fronte alle manifestazioni più estreme del male e alla frode in particolare diversamente dagli altri cerchi le zone del cocito non risultano distinte da precisi confini dante si accorge di passare dall'una all'altra solo perché la postura dei dannati muta quelli della caina e dell'antenora hanno i volti chinati ognuna in giuttene a volta la faccia canto 32 verso 37 cosa che permette il deflusso delle lacrime e li difende almeno in parte dal vento gelido causato dalle ali di lucido che così sia anche nell'antenora dimostrano i versi del 33esimo in cui si descrive il passaggio nella tolomea che dante dice abitata da gente ugualmente fasciata dal ghiaccio e tuttavia non volta in giù ma tutta riversata a significare che gli abitatori delle prime due zone tenevano appunto il volto basso come del resto si dice di bocca ospite dell'antenora a 32 105 quando dunque il poeta entrando nella seconda zona scrive verso 70 del 32esimo poscia vidio mille visi cagnazzi vuole informarci non che prima nella caina non aveva visto i volti dei dannati ma che i volti dei traditori della patria erano lividi perché nell'antenora più vicino al lucifero il vento è più freddo né cambierebbero le cose intendendo cagnazzo nel senso di sconciato e schiacciato come quello di un brutto cane a causa della perdita del naso dovuta al congelamento perché tale fenomeno sarebbe appunto dovuto al freddo più intenso che quei dannati devono sopportare i traditori della tolomea invece stanno su pini immediatamente sotto la superficie del ghiaccio con il solo volto scoperto in posizione orizzontale così infatti li raffigurano anche alcuni miniatori ad esempio come vedete in questa immagine del manoscritto edgerton 943 della british library relativo al canto trentatresimo all'ingresso nella tolomea così spiegava anche benvenuto da imola il verso 93 del canto trentatresimo non volta in giù ma tutta riversata parla chiaro sia pure nel caratteristico stile brachilogico della commedia non volta in giù significa e non può essere altrimenti non con la faccia rivolta verso il basso come nelle prime due zone del cocino mentre la specificazione tutta riversata deve riferirsi all'intero corpo come in questa immagine è disteso sotto la ghiaccia la posizione orizzontale della testa determina la maggior pena di questi traditori perché essa provoca certo anche a causa del freddo sempre maggiore l'immediato congelamento delle lacrime che non potendo defluire gelano facendo groppo e visere il fatto che si trapassi senza soluzione di continuità da una sezione all'altra del cerchio indica sicuramente l'affinità e la frequente sovrapposizione delle varie forme di tradimento testimoniata da molti dei personaggi che dante introduce in questo cerchio chi tradisce i parenti o gli ospiti è spesso mosso anche da ragioni politiche e di parte e viceversa il tradimento politico va di pari passo in molti casi come anche in ugolino con quello familiare nelle prime tre zone del nono cerchio incontriamo perché presenti o perché il loro allievo è preannunciato ben 15 personaggi con una concentrazione sconosciuta alle altre sezioni dell'inferno tutti contemporanei tranne le due mordred e gano di maganza desunti dalla tradizione romanzesca con maggioranza di fiorentini sei e in genere di toscani cui si aggiungono come detto i due faentini l'archetipo tebano che domina nel cocito fin dall'esordiale vocazioni del mito di anfione riverbera sul nono cerchio un clima asfittico e violento da città medievale dominata da odi viti rancori e vendette che intrecciano motivazioni personali familiari e politiche la prima cantica dove già il tema aveva trovato a più riprese ampio spazio soprattutto in relazione a firenze si chiude con una durissima denuncia delle atrocità cui conducono gli odi politici nelle comunità distruggendo anche i legami parentali le vicende dei fratelli alberti di bocca di gianni dei soldanieri interessano le lotte tra guelfi e ghibellini a firenze quelle del focaccia vanno i cancellieri e di carlino dei pazzi la divisione tra bianchi e neri a pistò e a firenze la storia di tebaldello zambrasi riguarda le contese bolognesi tra le fazioni dell'ambertazzi ghibellini e dei geremei guerri su tutto domina la storia di ugolino e ruggeri che trascende anche le rivalità tra guelfi e ghibellini configurandosi come l'emblema di una politica degenerata in faida perché mossa solo da un coacervo di interessi e ambizioni personali sete di potere e di denaro o di privati tradimento politico dunque nel senso di tradimento della politica più e oltre che della parte e della patria come nella bolgia dei barattieri il bersaglio esplicito era lucca qui diventa pisa ma dietro le due città si profila chiaramente firenze affetta dai medesimi mali dante il suo lettore lo sanno bene dopo gli incontri con ciacco con farinata con brunetto che già aveva usato una metafora alimentare predicendo l'inimicizia e l'odio di bianchi e neri nei suoi confronti l'una parte e l'altra avranno fame di te e ai vecchi fiorentini del canto sedicesimo il poeta aveva confermato la scomparsa dalla loro città di cortesia e valore soppiantati da orgoglio e dismisura in un arrestabile processo di degenerazione etica e civile analogo alla parabola di tebe fondata sotto il segno della ragione della civiltà da un saggio ordinatore giusta l'allegoria del mito di anfione esplicitata da orazio nell'ars poetica con cui si apre il canto 32 e poi precipitata nel gorgo delle lotte fratricide e delle violenze più bestiali ma se l'inferno si chiude con il ghiaccio del cocito nel segno del tradimento e dell'odio il purgatorio si apre nella dolcezza del clima che allegoria della mitezza del cuore aperto al perdono e alla pacificazione alle brutali scene di aggressione verbale e di azzandamento fisico del nono cerchio succedono gli abbracci quelli di dante casella e di virgilio e sordello emblemi umani delle si gran braccia della bontà divina evocate da manfredi se il cocito è dominato sinistramente da bocche e denti nell'anti purgatorio spiccano le braccia aperte il nesso per antitesi è certificato dall'invettiva del canto sesto del purgatorio rivolta contro quegli italiani che non stanno senza guerra incapaci di vivere in pace anche entro le mura della loro stessa città dove senza sosta dice dante l'un l'altro si rode col verbo rodere che non a caso già ricorreva due volte nei canti del cocito a proposito dei fieri pasti di tideo di ugolino intenti a rodere rispettivamente melanippo e rugge l'incontro tra sordello e virgilio suggella come dante sottolinea contrapponendolo agli scontri interni alle città del suo tempo il superamento della logica delle parti e dell'odio che da essa di necessità promana il trovatore anima gentil appena sente in bocca virgilio dolore dolce suon della sua terra e capisce che colui che ha di fronte e del quale ancora ignora l'identità è un suo concittadino si leva di scatto ad abbracciarlo e a festeggiarlo senza neppure fargli proseguire il discorso senza altro chiedergli e senza bisogno di sapere altro da lui come sordello dalla nascita mantovana di virgilio così farinate ugolino sono attratti dalla fiorentinità di dante ma l'uno solo per sapere se sia guelfo o ghibellino l'altro per suscitare il suo risentimento anti pisano e se sordello quando virgilio lo prega di indicargli la via per salire chiede ai due pellegrini notizie del loro paese e della loro vita e dopo lo scambio di accoglienze col poeta latino ripete la domanda voi chi siete i due grandi dannati invece si disinteressano delle persone di dante e di virgilio inequivocabile al riguardo le parole del conte io non so che significa non mi importa chi tu sei né perché modo venuto sei qua giù a lui come affarinata non interessa sapere chi dante è ma soltanto di chi è se cioè sia della sua parte o della parte avversa della sua città o di una città nemica e la disumanizzazione prodotta dalle divisioni intra e inter municipali nelle quali la viglieri è ancora immerso all'epoca del viaggio oltremondano ma dalle quali dopo averne sperimentato sulla sua pelle con l'esilio gli effetti perversi gradualmente si stacca nel corso di esso per approdare infine alla consapevolezza di dover fare parte per se stesso recuperando cioè la propria individualità libera e responsabile di cristiano minata e svilita da quelle strutture di peccato per riprendere un'espressione di papa paolo sesto che ai suoi occhi erano ormai diventate le parti politiche e le fazioni nell'italia del suo tempo vi ringrazio per l'attenzione e passo come consuetudine alla lettura del canto avvertendo che al verso 78 adotto la lezione del maloscritto urbinate accolta da sanguinetti e da inglese forar l'osso in luogo di quella volgata furo all'osso la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendo la capelli del capo che li avea di retroguast poi cominciò tu vuocchio rinovelli disperato dolor che il cor mi preme già pur pensando pria chione favelli ma se le mie parole esser di insieme che frutti infami al traditor chirodo parlare e lagrimar vedrà insieme io non so chi tu sei né per che modo venuto sei qua giù ma fiorentino mi sembri veramente quando io todo tu dei saper chi fui conte ugolino e questi è l'arcivescovo ruggeri or ti dirò perché i son tal vicino che per l'effetto dei suomai pensieri fidandomi di lui io fossi preso e poscia morto dir non è mestieri però quel che non puoi avere inteso cioè come la morte mia fu cruda udirai e saprai se ma offeso breve pertugio dentro dalla muda la qual per me al titolo della fame e che conviene ancora c'altrui si chiuda ma avea mostrato per lo suo forame più il lune già quando io feci il malsonno che del futuro mi squarciol velame questi pareva a me maestro e donno cacciando il lupo e lupicine al monte perché i pisang veder lucca non ponno con cagne magre studiose e conte gualandi con sismondi e con lanfranchi savea messi dinanzi dalla fronte in picciol corso mi parieno stanchi lo padre e i figli e con la cute scane mi pare a loro veder fender li fianchi quando fui desto innanzi la dimane pianger senti fra il sonno i miei figliuoli che erano con meco e di mandar del pane ben sei crudel se tu già non ti duoli pensando ciò che il mio corso annunziava e se non piangi di che pianger suoli già erandesti e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere addotto e per suo sogno ciascun dubitava e io senti chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre un dio guardai nel viso a miei figliuoli sansa farmotte io non piangea sì dentro in petrai piangeva nell'e e anse il muccio mio disse tu guardi sì padre che hai perciò non lacrimai nel risposio tutto quel giorno nella notte appresso infinché l'altro sol nel mondo uscìo come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso ambo le man per lo dolor mi morsi ed ei pensando che io il fessi per voglia di manicar di subito levorsi e dissero padre assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglie quei tami all'or per non farli più tristi lo dì e l'altro stemmo tutti muti hai dura terra perché non t'apristi poscia che fummo al quarto di venuti gaddo mi si gittò disteso a piedi dicendo padre mio che non m'aiuti qui vi morì e come tu mi vedi vi dio cascarli tre ad uno ad uno tra il quinto di e il sesto ond'io mi diedi già cieco a brancolar sovra ciascuno e due dì li chiamai poi che fur morti poscia più che il dolor potè il digiuno quando ebbe detto ciò con gli occhi torti riprese il teschio misero codenti che forar l'osso come duncan forti hai pisa vituperio delle genti del bel paese laddove il si suona poi che i vicini a te punir son lenti muovasi la capraia e la gorgona e faccian siepe ad arno in sulla foce sicché li anneghi in te ogni persona che se il conte ugolino aveva voce d'aver tradita te delle castella non dove i tuoi figliuoi porre a tal croce innocenti facea l'età novella novella tebe uguiccione il brigata e gli altri due che il canto suso appella noi passammo oltre l'ave la gelata ruvidamente un'altra gente fascia non volta in giù ma tutta riversata lo pianto stesso lì pianger non lascia e il duol che trova e sugli occhi rintoppo si volge in entro a far crescere l'ambascia che le lacrime prime fanno groppo e siccome visiere di cristallo riempiono sotto il ciglio tutto il coppo e avvegna che siccome d'un callo per la freddura ciascun sentimento cessato avesse del mio viso stallo già mi parea sentire alquanto vento perch'io maestro mio questo chi muove non è qua giù ogni vapore spento ondelli a me avaccio sarai dove diciotti farà all'occhio la risposta leggendo la cagion che il fiato piove e un detristi della fredda crosta gridò a noi o anime crodevi tanto che data ve l'ultima posta levatemi dal viso e tu riveli sicch'io sfoghi il duol che il cor mi impregna un poco pria che il pianto si raggeli perch'io a lui se vuoi chi ti sovegna dimmi chi sei e s'io non ti disbrigo al fondo della ghiaccia ir mi convegna rispose adunque i son frate alberigo i son quelle dalle frutta del malorto che qui riprendo dattero per figo oh disse a lui forse tu ancora morto ed egli a me come il mio corpo stea nel mondo su nulla scienza porto cotal vantaggio a questa tolomea che spesse volte l'anima ci cade innanzi catropos mossa l'idea e perchè tu più volontier mirade le invetriate lacrime dal volto sappie che tosto che l'anima trade come fecio il corpo suo l'è tolto da un demonio che poscia il governa mentre che il tempo suo tutto si avvolto e la ruina in si fatta cisterna e forse pare ancor lo corpo suso dell'ombra che di qua dietro mi verna tu l'hai saper se tu mi è in pur mogiuso e gli esser brancadoria e son più anni poscia passati che il fussi racchiuso io credo disse lui che tu mi inganni che brancadoria non morì un quante e mangia e be e dorme e veste panno nel fosso su di selde malebranche là dove bolle la tenace pece non era ancora giunto michel zanche che questi lasciò il diavolo in sua vece nel corpo suo ed un suo prossimano che il tradimento insieme con lui fece ma distendi oggi mai in qua la mano aprimi gli occhi e io non gliela persi e cortesia fu lui esser villano ai genovesi uomini diversi d'ogni costume e pien d'ogni magagna perché non siete voi del mondo spersi che col peggiore spirito di Romagna trovai di voi un tal che per sua opra in anima in cocito già si bagna e in corpo par vivo ancora di sopra in forza Grazie a tutti